Allora amici di Calciopasso vogliamo andare un po' ad analizzare quelle che sono state i flash più importanti della giornata di ieri di Serie A delle partite disputate ieri voi sapete che purtroppo quando c'è lo stadio io sono totalmente assorbito dalla Roma e quindi o non riesco a guardare tutte le partite o proprio mi dimentico anche di fare i video proprio preso dall'enfasi delle gare quindi iniziamo dalla gara di pranzo Genoa-Atalanta dove il flash che salta subito agli occhi anche perché ce l'ho al fantacalcio e mi dispiace di non aver schierato Deron che comunque ha fatto l'assist è lo stupendo gol di Zapata gli ha tirato una fucilata al 94 insomma proprio quasi allo scadere sotto al 7 per cui complimenti a lui che comunque si dimostra essere quel bomber di razza dello scorso anno io pensavo che magari poteva essere stato un anno così dove poi si ritornava chiaramente piano piano nella normalità mentre secondo me Zapata anche quest'anno farà gol assecchiato e magari anche complice il bel gioco di Gasperini che lo mette in condizione più volte di trarre in porta all'interno di una partita forse la squadra copertina questa settimana la merita il Bologna il Bologna che gioca proprio con ardore dedicando ogni singola cosa che fanno in campo al proprio allenatore ieri bellissimo il gesto a fine gara quello di andare sotto l'ospedale con Mialovic che si affaccia in finestra queste sono cose veramente che riconciliano col calcio e noi non finiremo mai di fare gli auguri a Sinisa Mialovic che possa presto rimettersi in forze e tornare al suo posto per quanto riguarda i marcatori come Flash sicuramente sicuramente anche se diciamo non ha portato alla vittoria ma la doppietta di Donna Rumma ricordiamo capo cannoniere della scorsa stagione che anche in serie dimostra di saperci fare in che modo lo dimostra? con tutto il suo repertorio colpo di testa saltando magnando in testa non mi ricordo a chi palla direzionata nell'angolino il buon Skorupski prova a smanacciare ma la goal line technology certifica il gol e poi il secondo ancora più bello questo tiro di destro dal vertice sinistro dell'area all'angolino imprendibile imparabile mi piace anche sottolineare il gol di Orsolini che comunque seguo con molto interesse e secondo me sarà uno degli esterni più forti e più produttivi di questo campionato quindi mi dispiace non averla avuta al fantacaccio e andiamo avanti così poi l'altra sorpresa di giornata sicuramente anche se poi il Bologna ha prodotto secondo me più calcio rispetto al Cagliari che invece se non sbaglio ha tirato tre o quattro volte in porta non in più quindi un cinismo pazzesco del Cagliari e l'uomo di giornata, l'uomo copertina è indubbiamente Cepitelli, Capitan Cepitelli che segna prima un rigore in movimento sul primo gol e poi uno stacco imperioso proprio di testa per il raddoppio a nulla servirà il momentaneo 2 a 1 di Barillà perché poi addirittura addirittura Simeone come Mosè avanza nessuno ritiene opportuno andaglie incontro, daglie una falciata, fa insomma un fallo tattico, una qualsiasi le maglie si allargano e lui che non so se ha provato magari anche a fittare un passaggio e quindi ha fatto spostare qualche difensore, piazza una rasoiata che rende impossibile l'intervento del portiere poi l'aveva anche toccata però era veramente una rasoiata precisa altra sorpresa, una giornata piena di sorprese insomma Spal Lazio che dire, lo ha detto anche Inzaghi, non siamo ancora una grande squadra la Lazio è così, la Lazio magari ti fa delle partite importanti come il derby dove magari ci sono le motivazioni, ecco le grandi squadre si riconoscono da questo riescono sia con le squadre importanti sia con le squadre meno dove serve più motivazione e riescono a fare la grande partita e il grande risultato o comunque anche se non fanno il grande risultato magari vanno in vantaggio con Immobile sul rigore blindano la partita, cioè non permettono più agli avversari di tirare in porta e portano a casa il risultato la Juventus tra battoni in passato ci ha vinto i meglio scudetti così 1-0, 2-1, strepinzito perché così in Italia rende questa tipologia de calcio anche se forse le cose stanno cambiando vediamo, vediamo e poi nel secondo tempo lo splendido gol di Petagna che in estate era stato spesso accostato alla Lazio poi non se ne è fatto più nulla e il gol di Kurtic il gol di Kurtic nel finale al 90-2 comunque Kurtic è uno a bezzo al gol è un centrocampista che quei 6-7 gol all'anno li fa e anche lì insomma era un obiettivo del mio foglietto sul fantacalcio non c'è stata proprio possibilità di prenderlo e me ne dispiaccio bene, poi poi abbiamo Roma-Sassuolo e beh, Roma-Sassuolo l'ho anche detto ieri nel video dedicato proprio alla Roma ho visto finalmente giocare del calcio che comunque erano almeno tre anni sì, perché comunque l'ultimo calcio esplosivo alla Roma l'ho visto con Spalletti e con Di Francesco ho visto qualche sprazzo di bel calcio ma non sicuramente in una partita intera forse l'unica partita che mi viene in mente è stata col Barcellona perché poi se andiamo a vedere bene anche nei derby vinti e comunque Di Francesco ne ha vinti un po' di derby le partite solitamente le faceva sempre a Lazio e noi agivamo di rimessa che per carità insomma vince un derby anche così giocando non bene vincendo è il massimo della vita però se poi devo analizzare i due anni di Di Francesco io tutto sto grande calcio effettivamente non me lo ricordo me ne dispiaccio perché comunque lui al Sassuolo invece lo faceva vedere come poi però mi chiedo ma se il Sassuolo chiunque va riesce a far vedere bel calcio magari c'è sta proprio un'alchimia una chimica al Sassuolo che consente di giocare un ottimo calcio comunque Roma-Sassuolo non me la fate passare come una gara semplice ragazzi perché non è così il Sassuolo statistiche alla mano avevo fatto anche un video in settimana è comunque una squadra che tirava molto in porta ma soprattutto che rispetto magari al recente passato gestiva molto di più il pallone faceva molto di più possesso palla per cui il fatto che la Roma con questo centrocampo aggressivo ma non soltanto aggressivo ma che quando recuperava palla e il suo massimo esponente di questo e secondo me anche il migliore in campo è finalmente Jordan Vertu con questo calcio aggressivo non ha dato modo al Sassuolo di ragionare infatti se lo vedete la maggior parte dei gol arrivano da questo da palle rubate anche il gol di Mkhitarya per esempio mi viene in mente se non sbaglio è Florenzi e un altro che vanno a raddoppiare sulla destra rubano palla la palla poi viene rigiocata velocemente verso il centro dove c'è Lorenzo Pellegrini che ieri ha fatto una partita veramente sontuosa 3 assist se non sbaglio e vede con la coda dell'occhio Mkhitaryan che parte lo serve col contagiri e lui di prima intenzione fa secco il portiere per cui ragazzi ieri io obiettivamente non riesco a trovare un peggiore in campo è vero che si è poi sofferto ma quello secondo me è più per un calo di concentrazione perché tu comunque stai conducendo una partita 4-0 e pensi vabbè bene o male questi sono belli che schiantati mentre comunque il Sassuolo è una squadra che gioca sempre a calcio ha avuto la fortuna di accorciare distanze con Berardi su punizione e lì ci vedo comunque un mezzo errore di valutazione da parte di Paolo Lopez perché ti assicuro io stavo in curva tutta la curva c'ero io, Spacca, Sic tutti quanti stavamo dicendo Paolo lo chiamavamo Paolo guarda spostati leggermente più qua cioè mettiti in una posizione dove se lui sceglie di tirartela alla tua destra comunque ci arrivi se decide di tirartela alla tua sinistra comunque ci arrivi che tu ti metti tutto qua cioè Berardi comunque lo sappiamo non è che è uno specialista alla maratona però è punizione esattiva per cui a mio avviso secondo me lì c'è stato un errore di valutazione e poi si è andati un po' in sofferenza non in tantissima, non in grandissima sofferenza perché poi se vai a vedere pali, traverse come al solito queste non mancano mai pastore che se mangia un gol da dentro la porta alla fine ci poteva stare anche la goleata poteva anche finire 7-8-2 però è che proprio il concetto in Italia insomma di prendere due gol così quando stai 4-0 in vantaggio cavo di concentrazione non va bene però poi c'è tempo di lavorare stiamo aspettando ancora Smalling per capità insomma Smalling secondo me diventerà un pilastro di questa difesa ieri comunque secondo me non si sono nemmeno comportati malissimo i due centrali ho visto una buona Roma finalmente concludiamo con Verona-Milan io purtroppo la partita non l'ho vista però ho letto vari articoli dove mi si dice che il Milan ancora non è all'altezza a livello di gioco tra l'altro ho visto un'occasione di Verre nel primo tempo che se segnava quel gol veramente veniva giù lo stadio questa volta la fatal Verona che storicamente insomma il Milan ci ha perso il Milan ci ha perso i bei scudetti a Verona non è stata così fatale è rinato Piontek che ha segnato un calcio di rigore ma sai quando comunque un bomber si sblocca anche sul rigore poi magari trova la motivazione per fare anche gol su azione questo è il mio pensiero sulla serie A mi chiedo ancora perdono nel fatto che non sono riuscito ieri in tempo reale a fare i video ma ieri è stata una giornata proprio campale per cui un saluto scrivetemi sotto la vostra il vostro pensiero se ho detto qualche castroneria ne parliamo un saluto e sempre caccio paccio iscrivetevi grazie a tutti